che succede? c'è un poco la guerra in testa mi devi provare mi devi dire un parere tuo d'amico? io non so chi sposare io amo Giulia e la conosco è giovane, carina però è povera ti posso essere tutti ricchi che significa? in alternativa c'è una vecchia vedova di Bari però ricca ma ricca i soldi delle oregano l'avrà ereditato dopo che è morto il marito io non so chi sposare io comunque a parte i soldi sposerei la persona che amo quando uno ama la persona ama voglio dire la tua fidanzata anche se è povera ma capito? al cuore non si comanda è così era questo il consiglio che volevo è proprio fatto da un amico mi hai convinto sposerò Giulia mi dai l'indirizzo della vedova di Bari? il cellulare una cosa che mi scava anzi e si perché se io mi sposo Giulia tu ad amore quella rimane libera se sta io mi sposo per amore povera no se sta ma io faccio per te per me lo fai per un cazzo 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 grazie grazie grazie